Gentile utente, una buona notizia! La tua impresa ha registrato con successo la domanda per accedere ai fondi del bando Easy e migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Ricorda di scaricare il codice identificativo della tua domanda, il cosiddetto token. Accedi al portale INAIL nella sezione Domande registrate, dove troverai la tua domanda, e clicca sull'icona Visualizza. Clicca sull'apposito link e scarica il codice identificativo della tua domanda, il cosiddetto token. Custodisci con cura il codice token che ti occorre per la partecipazione allo sportello informatico, il cosiddetto CLICK DAY. In base all'ordine di arrivo delle domande, saranno predisposti gli elenchi provvisori, distinti per regione e per asse. Per accedere allo sportello informatico, dovrai prima registrarti al portale partecipante. Per farlo, consulta le regole tecniche. Nel prossimo video, ti mostreremo i passaggi per la procedura di registrazione. A presto!